Uccidere in nome di Dio è un grande sacrilegio. Nessuno può usare il nome di Dio per commettere violenza. La religione è autentica e fonte di pace e non di violenza. Papa Francesco lo ha sottolineato a Tirana, incontrando nella sede dell'Università Cattolica i rappresentanti delle cinque maggiori comunità religiose dell'Albania. A musulmani, bektashi, confraternità islamica di derivazione sufi, cattolici, ortodossi ed evangelici, il Papa ha ricordato come l'intolleranza verso chi ha convinzioni religiose diverse dalle proprie sia un nemico molto insidioso, che oggi purtroppo si va manifestando in diverse regioni del mondo. Non in Albania, dove le diverse confessioni vivono il dialogo nel quotidiano, costruendo relazioni di rispetto, fraternità e collaborazione. È importante, ha spiegato a braccio il Papa, camminare insieme senza tradire o mascherare la propria identità, che è la base per il dialogo. Discriminare il nome di Dio è inumano, ha aggiunto, ripetendo le parole di Giovanni Polo II nella sua visita in Albania del 1993. La vera libertà religiosa rifugge dalle tentazioni dell'intolleranza e del settarismo e promuove atteggiamenti di rispettoso e costruttivo dialogo. Per promuovere la libertà religiosa, che è garanzia di ogni altra espressione di libertà, Papa Francesco ha invitato a vedere in chi non appartiene alla propria tradizione religiosa non un rivale o un nemico, ma un fratello. Chi è sicuro delle proprie convinzioni non ha bisogno di imporsi, di esercitare pressioni sull'altro, sa che la verità ha una propria forza di irradiazione. Aderire alla propria tradizione religiosa, poi, deve portare ad un servizio più convinto e generoso all'intera società. Per rispondere ai bisogni dei poveri, le nostre società devono ancora trovare cammini per una giustizia sociale più diffusa. E qui, uomini e donne ispirati da valori religiosi possono offrire un contributo insostituibile.